La Cantarelli è un patrimonio dell'intera provincia di Arezzo. Assieme al sindaco di Cortona, promotore dell'iniziativa, i sindaci di Arezzo e Castiglione Fiorentino chiedono al giudice Picardi di nominare un nuovo commissario e non dichiarare fallimento. Inizia così un comunicato congiunto dei tre sindaci all'indomani dell'Assemblea dei Lavoratori che si è tenuta a Rigutino. Manteniamo comunque, anche se la situazione è molto e sempre più difficile, il sostegno ai lavoratori della Cantarelli e proviamo insieme a trovare una soluzione per il futuro. Dopo le recenti decisioni del Ministero dello Sviluppo Economico e di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda Cantarelli di andare verso una procedura di fallimento, Come sindaci, prosegue il comunicato, abbiamo deciso di fare appello al giudice Picardi che ha in carico la procedura affinché nomini un nuovo commissario e dia un'ulteriore possibilità a questa azienda che ancora oggi nonostante tutto continua a ricevere commessi ed attestati di stima da parte dei numerose aziende del settore moda. Io credo che si debba attivare subito un percorso con il Ministero prima ma anche con la Regione per riuscire ad aprire, vorremmo, vorrei aprire un tavolo appunto di confronto con l'assessore alle attività produttive proprio per cercare di capire cosa fare in questa situazione e parallelamente ovviamente lo farà il Ministero ma parallelamente continuare a lavorare affinché la Cantarelli che è un grande marchio Made in Italy continua a vivere.